Allora, buonasera a tutti, faccio questo video e di solito non faccio video sulla politica, però penso che sia doveroso parlare di quello che sta succedendo, perché è stato fatto appunto un ministero per la disabilità. Ora, io penso che questa cosa sia completamente inutile, perché intanto ancora oggi parlare di diritti delle persone disabili è veramente una cosa che non se ne dovrebbe nemmeno parlare, perché dovrebbero essere proprio ovvi, come ad esempio il diritto all'affettività, il diritto alla sessualità, ma anche il diritto all'autonomia, quindi andare in giro senza dover incorrere nelle noiose barriere architettoniche. Cioè ancora oggi, nel 2021, si parla dei diritti delle persone disabili. Perché non è ovvio che le persone disabili, essendo persone appunto e non esseri strani o comunque alieni, non è ovvio che abbiano dei diritti come tutte le persone. Quindi che senso ha parlare di un ministero della disabilità? Secondo me è un modo per ghettizzare ancora di più. Anzi, io vi dico anche una cosa. È da una vita che esiste la legge sulle barriere architettoniche, però non è che viene messa in atto, cioè non la considera nessuno questa legge. Eppure è tanto chiaro, no? È tanto ovvio. Faccio un esempio. Allora, mi levo anche gli occhiali perché almeno io, mettiamo caso che io non ho una disabilità o comunque qualsiasi altra persona, va in giro con le proprie gambe, quindi non ho una disabilità, in questo caso motoria. Voglio andare a comprarmi un pannino, entro regolarmente in quel determinato locale. È un mio diritto. È il diritto di poter mangiare, il diritto di poter ordinarmi il panino senza farmi tanti problemi. È un diritto di spostarmi dentro il locale. Ora, se io bipede senza carrozzina lo posso fare perché io bipede con la carrozzina e con una disabilità, chiamiamola così, una difficoltà, ecco, motoria non lo posso fare perché non è la stessa identica cosa. Quindi, qual è il problema? Cioè, alla fine sono cose talmente ovvie che non bisognerebbe nemmeno più stare a spiegarle. Perché è ovvio, ragazzi, è ovvio che una persona con una difficoltà abbia lo stesso diritto di stare con un'altra persona, di fare sesso con un'altra persona. Io non ci vedo tutte queste cose strane. Ancora oggi non capisco perché le persone sono così indietro da non capire una banalità, come può essere uno più uno fa due, che è la stessa identica cosa, alla fine. Poi vabbè, abbiamo fatto questo ministero per la disabilità. Allora, se proprio proprio bisognava fare un ministero per la disabilità, che a me, concedetemelo, mi ricorda molto, il grande Orwell con il suo famoso romanzo, non so se l'avete presente, che anche lui c'erano i ministeri. Comunque, se proprio andava fatto, ora che senso ha metterci una persona come quella che è stata messa, appunto. Cioè, metteteci una persona che tutti i giorni ha delle difficoltà motorie, almeno si rende conto di che cosa sono le barriere architettoniche, di quali sono le difficoltà in cui incorrono tutti i giorni le persone che viaggiano con la carrozzina, le persone con il bastone, oppure metteteci una persona, che ne so, che ha problemi magari di udito, una persona con una difficoltà, ma non una persona che con la disabilità, perdonatemi, non c'entra un tubo. Cioè, ragazzi, è come se io metto Red a fare il coso, il ministro della giustizia, è la stessa identica cosa. Mi sbaglio? Io penso che qui veramente siamo a un governo che è un po' alla frutta. Secondo me sono cose talmente ovvie che non bisognerebbe neanche più, cioè, non parlarne, pensare che bisogna informare, ma informare di che? Tutti siamo nati su questo pianeta, tutti si vive, si respira, si mangia, si muore allo stesso modo, cioè allo stesso modo, allo stesso modo no, però tutti viviamo, cresciamo in questo pianeta e alla fine moriamo. Perché? Perché siamo tutti persone. Quindi è vero, sulla carta bisogna, diciamo, per comprendere etichettarsi, però alla fine il succo è che siamo persone. Quindi che senso ha fare un ministero della disabilità? Poi voglio vedere quello che succede. Io penso che le persone che non provano sulla propria pelle che cosa significa passare determinate difficoltà, non lo possono capire appieno. Magari sì, chi ha un parente, chi ha un amico, chi in qualche modo vive indirettamente queste difficoltà, lo può capire. Ma una persona che è completamente estranea, non credo, con tutto il rispetto, poi per carità, io lascio sempre il beneficio del dubbio. Quindi ci sta anche che faccia del bene, buon per lei. Come dico sempre, chi vivrà, vedrà. Quindi stiamo a vedere. Vabbè, io il mio pensiero l'ho detto, voi che ne pensate di questa cosa, mettetemi un commentino qui sotto e vi ringrazio, vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!